buonasera amici mi chiamo debora questo canale di alta sartoria italiana e oggi finalmente ci sarà la lezione attesissima da tantissimi di voi ovvero quella dell'asola del pantalone è diversa da quella della giacca e vedremo un accenno delle differenze all'inizio adesso del video quindi bando alle cianci iniziamo evidentemente la nostra asola allora comincio col mostrarvi la differenza tra le asole della giacca e quelle del pantalone oggi faremo quelle del pantalone allora come vedete questa è quella della giacca ok è al punto classico ha un'apertura qua sopra ma soprattutto ha una parte interna che voi non vedete che la rende più rigida che sta sotto i punti che si chiama vergolina che è questo materiale qua per i pantaloni non si usa ovvero quando vi insegnerò le asole della giacca vedrete come inserire questa vergolina all'interno tutto attorno alla all'asola e faremo e vi mostrerò come realizzarle esiste questa giusto per curiosità esiste un altro tipo ma non è l'unica diversa vedete che il punto è diverso questa è l'asola lucida che si fa sul reverro sulla piegatura della giacca e questa è l'asola l'asola più grande ma è quella classica comunque e adesso vi mostro invece quella del pantalone che essendo più morbida avrà anche un aspetto un aspetto diverso vedete non hanno la non hanno la vergolina all'interno e poi oltretutto sono dritte non hanno quel tonno sopra cioè esiste c'è il punto che gira attorno però è tagliata semplice non è tagliata con un una parte più più larga qui attorno almeno della sartoria nell'alta sartoria mentre nella sartoria quella comune quelle fatte a macchina c'è il tonno perché sono fatte a macchina questa è la e la finta finita con 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 le asole dei bottoni quindi la volta la volta scorsa vi ho mostrato come come realizzarla questa è quella finita con le asole poi qui vabbè terminato c'è anche il rivestimento eccetera ok adesso vi mostro come si fanno queste quelle che ci interessano a noi adesso per il pantalone tanto c'è da dire una cosa questa è molto piccola perché il mio pantalone io sono bassina quindi anche la finta vedete è molto piccola però nel momento in cui voi andate a segnarle dovete rispettare certe distanze perché a me ne entrano quattro anche abbastanza ravvicinate per per pantaloni di persone molto alte spesso questa la finta è molto lunga e quindi anziché quattro ce ne vanno cinque c'è una regola da rispettare adesso ve la mostro allora vedete io qui l'avevo già segnate questa è la finta che noi abbiamo fatto l'altra volta quando voi segnate le le asole cioè dove andare a realizzare le vostre asole dovete da questo punto qui cioè dalla cucitura della cinta scendere circa due centimetri due centimetri e mezzo io ho fatto due e mezzo ok e segnate la prima sola ok poi andate sotto e anche qui dovete salire perché qui c'è la cucitura no non so se la vedete c'è la cucitura della nostra puntura davanti quindi se la facciamo troppo bassa rischia di non entrarci quindi ci alziamo di circa tre centimetri da questa punta questa più bassa della nostra cucitura della nostra impuntura qui sono tre centimetri infatti e la segnate bene ora prendo da questa misura qui che era due centimetri e mezzo a quest'altra che era tre la prendo la misuro e verifico e divido il totale per diviso tre in questo caso perché è bassa la finta diviso tre mi verranno quattro asole come faccio a capire se è bassa o è alta se ne devo fare di più o meno se questa misura cioè dal primo punto all'ultimo diviso tre mi viene troppo grande mi viene da cinque centimetri in su allora dovrò farne di più cioè se fosse stato 15 centimetri anziché 12 e mezzo questa parte sarebbe stata una distanza di cinque centimetri che comincia ad essere già abbastanza ampia e cominciano ad essere lontane una dall'altra e rischia che il pantalone non stia bene chiuso quindi se questa misura mi verrà da 15 in su la dovrò dividere per quattro in modo da ottenere non tre spazi e quattro asole ma quattro spazi e cinque asole ok questa è la regola per avere una bottonatura adeguata poi dobbiamo tener conto anche di un'altra cosa allora intanto dobbiamo trovare il punto di inizio dell'asola quindi io lo avrò segnate ho diviso i miei 12 centimetri e mezzo in tre e le asole mi capitano qui quindi e quattro e qualcosa segnate le quattro le quattro asole devo vedere dove inizia il mio bottone andrà qui ok quindi questo punto sarà il punto in cui si fermerà il bottone una volta combottonato il pantalone e cosa devo fare a cosa devo fare attenzione al fatto che non sia troppo esterno perché se io faccio l'asola troppo lunga all'inizio troppo al bordo il mio bottone una volta abbottonato uscirà fuori dall'esterno si vedrà quindi io che devo fare devo fare in modo che l'inizio della mia asola sia almeno un centimetro abbondante 1 1 1 2 dal bordo da questo bordo esterno non da questo da quello che si vedrà una volta che indosseremo il pantalone quindi io con mio bel gesso con mio bel centimetro vado a segnare in questo caso 1 e 2 ok poi quanto sarà larga sarà 1 e mezzo e segno 1 e mezzo perché segno anche il finale voi dite ah ma abbiamo le nostre belle asole le nostre belle formici per le asole questo è l'unica volta in cui non le potete usare perché se voi andate ad infilare le formici si bloccheranno qua io non potrò tagliare bene bene prendete due tessuti dobbiamo ricreare la situazione del pantalone quindi abbiamo due tessuti uno contro l'altro nella finta andiamo a fare una cucitura e abbiamo due tessuti che formano uno spessore simile a quello che ritroveremo dopo nel caso reale segnate la vostra asola di un centimetro e mezzo segnatela più d'una perché andrete a andrete a a fare pratica no? quindi fate più di una asola di un centimetro e mezzo ricordate che è quella del pantalone quindi è sufficiente tagliarla così prendete o le vostre forbici per le asole oppure tagliatele come le tagliereste nella fitta del pantalone ovvero intaccate la parte centrale così e poi terminate il taglio in modo preciso di qua e di qua come facciamo con le tasche no? bene adesso devo prendere il mio filo per imbastire e fermare il tessuto attorno alle asole perché altrimenti rischierebbe di slittare il vostro lavoro verrebbe verrebbe rovinato verrebbe male così da fermare il tessuto attorno al vostro taglio ok adesso ne faccio soltanto una non avete una linea da seguire dovete semplicemente girare attorno alla vostra asola al taglio della vostra asola bene ora dovete fare il sopramano ovvero questa è una franella quindi non si sfilaccia però le asole tendono molto a sfilacciarsi e quindi la prima cosa che dovete fare è fare un sopramano quindi per fare il vostro la vostra asola i destri iniziano che usa la destra inizia dalla parte opposta di qua che è mancino di qua ok va bene iniziamo con il sopramano che vi ho già insegnato non vi devo spiegare nulla quindi poi coprirò cercherò di coprire in maniera molto fitta il mio la mia asola ok fate così attorno a tutto il il taglio della vostra asola va bene bene ora prendete il vostro cordonetto a colore questo è leggermente più chiaro e in genere si utilizza un cordonetto di un tono più scuro del tessuto perché col tempo potrebbe tendere un po a schiarire quindi se lo prendete troppo chiaro poi si diventa eccessivo però dovrebbe essere un tono più scuro e adesso soltanto un modo una mostra per far vedere come fare prendo questo cordonetto qui ricordatevi che è questo è lo spessore il 24 ok di seta cambia lo spessore della seta è sempre lo stesso cambia invece nelle giacche cambia lo spessore della vergolina e anche il colore della vergolina mi raccomando lo spessore vedete questo è proprio bella spessa grande per le asole dei cappotti mentre quelle più sottili più piccoline sono per le giacche poi a seconda della pesantezza del tessuto va bene questo è ancora più sottile in questo caso non mi serve però per dirvi che la seta è sempre questa sempre la 24 indipendentemente dal dalla vostra asola allora prendete il filo come si misura si misura lo dovete tenere così e portarlo fino all'ascella praticamente ok e quella è la misura corretta per la vostra asola del pantalone che vi dico all'incirca nel mio caso quant'è se volete regolarvi è 51 centimetri una cinquantina di centimetri ok per queste asole piccoline dove non c'è la vergolina se invece fate quelle delle giacche potete salire un po più su e arrivate a 60 a 70 centimetri ma è abbondante ok quindi prendete la vostra il vostro filo in questo caso fate il nodo finale sotto perché andrà poi tagliato adesso vi mostro allora dovete queste doppia no dovete fare il nodo finale sotto ok così così e dopo fate passare il vostro ago tra i due tessuti e uscite qua la parte opposta del bottone il bottone andrà qui io uscirò qui faccio il nodo vedete mi serve per reggere bene questo dopo lo tirerò il filo un pochino andrò a tagliare e il filo iniziale rimarrà chiuso tra i due tessuti adesso vi serve per reggere quindi faccio un nodo e faccio così poi come continuo il filo cercate di prendere bene sia sotto che sopra perché altrimenti si sfila se lo prendete bene si si sfila ok prendete del tessuto così poi prendete il filo quello che viene da qua e lo girate attorno alla punta del lago così vedete e tirate lago ed è bloccato adesso sembra molto semplice in realtà voi dovete seguire due linee ovvero dovete infilare lago a fianco a quello precedente e non più interno o più esterno altrimenti la sola sarà tutta storta dovete seguire una linea immaginaria si può fare anche così adesso vi mostro dovete seguire una linea immaginaria di infilaggio dell'ago diciamo ok cioè dovete infilare lago sempre alla stessa distanza dal taglio in modo che venga dritta altrimenti viene così 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 va bene ho mostrato anche un altro modo di fare allora si fa o così oppure tirate lago e poi infilate dell'asola che si forma vedete che si forma questo occhiello si forma questo occhiello qui infilate lago una parte retrostante così e tirate adesso c'è anche un'altra cosa da rispettare adesso sembra sembra non è la cosa più semplice del mondo almeno farle belle dovete infilare lago sempre nello stesso sulla stessa linea ma dovete anche tirare il filo sempre o in su o indietro da questa parte no viene troppo piatta cercate sempre di tirarla in su perché mi dico questo perché il modo in cui voi tirate lago tirate il filo vi darà la forma superiore del dell'asola vi faccio vedere vedete la linea di infilaggio dell'ago qui si perde quasi sta qua dentro questo bordino superiore che poi il bordino che forma la vostra asola è data da come tirate lago se voi lago lo tirate all'insù avrete tutti quanti all'insù avrete tutti quanti queste dentellature identiche cioè allineate se una tirate in su e l'altra tirate laterale l'altra in su e l'altra laterale non vi verrà dritta questa vi verrà perché se la tirate all'esterno tendete ad aprire tendete a fare questo lavoro qua quindi succederà che questa linea non sarà dritta è carino quando fate quando fate la parte rotonda qui è allineata qui è tirata all'insù anche questa parte è carino tirare cominciare ad allargare un pochino questa parte tirano un pochino l'indietro in modo che qui l'asola si apre un po questa l'ho fatta in questo modo è carino anche così però questo per dirvi che come tirate il filo così vi ritrovate il bordo dell'asola io mi trovo scomodissimo adesso ma perché l'asola si lavora sul ginocchio è così ok e proseguite così fino alla fine adesso vado un po avanti vi faccio vedere vi faccio vedere la parte tonda allora quando arrivate qui che dovete girare allora intanto non so se l'ho detto il lavoro verso di voi si tiene così cioè dovete avere l'asola verticale ok c'è anche chi la lavora in orizzontale lavora così io lavoro avendo l'asola in verticale ok quando arrivate qui semplicemente continuate a fare il punto come come lo avete fatto finora no così però cominciate a girare anche il lavoro cioè se prima in verticale questo adesso la metto per così e continuo la parte tonda poi ognuno trova il suo metodo girate o questo o questo è uguale e proseguite tutto attorno ok il tondo praticamente dovete semplicemente girarli intorno intorno cercate di farli adesso fatti un po radii veramente cercate di farli belli fitti in modo che abbastanza amici ok non è venuta bellissimo perché l'ho fatta un po di fretta devo dire la verità però comunque il punto è quello nel momento in cui arrivate qui alla fine dovete fare una travetta però prima fermate il filo passate vedete che sto alla fine dell'ultimo punto vedete da dove viene il filo vado a chiudere quindi vado qua così e poi vado a fare una travetta ovvero io adesso c'ho la telecamera tra me il lavoro quindi potete immaginare come sto lavorando esco col lago qui e rientro qua così ci passo due volte ok e poi vado a arrotolare il filo così ho fatto un errore così ok in modo che venga una travetta poi vista da vicino sempre ancora più brutta di come in realtà non è proprio verribile allora poi passo faccio perdere di nuovo il filo all'interno dei miei due tessuti così e vado a tagliare questo e quest'altro tiro un pochino in modo che il nodo esca non sia troppo il taglio non sia troppo vicino al tessuto così e la mia sola è terminata ok sotto è così e sopra è fatta di fretta ma funzionale sicuramente se vi viene almeno così come come asola va bene per i pantaloni per la giacca ne parliamone perché per la giacca avete visto ci vuole molta più precisione perché rimangono a vista va bene calcolate che la solaia è un lavoro e in genere è la solaia che le fa sulle giacca e mentre la pantalonaia si è adatta a fare le asole sul pantalone le fa anche così poi se riesce meglio come riesce a me quando le faccio piano piano allora è ancora meglio va bene e questa è la nostra asola del pantalone bene finita la lezione magari vi sarà sembrata una cosa non è proprio difficile in realtà è una delle cose più difficili che c'è da fare in sartoria almeno fatta bene dovete prima di mettere mai sul sul pantalone in realtà soprattutto sulla patta rimane rimangono interne non si vedono tanto quindi anche se non vi vengono perfette non vi preoccupate però prima di farle soprattutto quelle sterne che poi vi farò vedere dove segnare ovvero sulle tasche del dietro su altre parti del pantalone dove andremo a fare le nostre asole mi raccomando fate delle prove su delle pezze mettete un tessuto sull'altro quindi deve essere doppio e provate a realizzarle magari avrete anche occasione di utilizzare le vostre forbici per le asole e anche troverete anche il vantaggio di vedere questa precisione della misura della misura del taglio quindi mi raccomando fate pratica fate pratica fate in modo che le vostre asole saranno perfette e andranno a completare in maniera adatta il vostro i vostri capi di alta sartoria quelle delle giacche sono un pochino più difficili ve lo anticipo però le vedremo molto più in là intanto imparate il punto poi tutto il resto verrà da sé vi saluto arrivederci mettete un like iscrivetevi se non avete ancora fatto non lo so commentate mi fa tanto piacere lo sapete rispondo sempre e vi saluto a rivederci